Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Che il mondo della televisione sia un mondo con pochi scrupoli credo che lo sappiamo tutti. Ci sono dei programmi che sono francamente vergognosi, in cui delle persone vengono prese, sbattute, messe alla berlina semplicemente per il divertimento degli spettatori e credo che molti di coloro che ci lavorano non si facciano problemi a creare queste cose. L'importante è che vengano seguiti e che permettano di vendere della pubblicità. Ci sono però dei casi in cui questo livello di bassezza, che è già normalmente abbastanza alto, viene ampiamente superato e si raggiungono dei livelli che francamente, visti a posteriori, sono più da codice penale piuttosto che da televisione. Uno dei casi più eclatanti è avvenuto in Giappone nel 1998 e riguarda un programma televisivo che è talmente folle, talmente assurdo, da essere ancora ricordato adesso come il peggior reality show della storia. Perché di reality probabilmente aveva tanto, ma quel tanto era il dolore e la follia a cui un uomo che rimase rinchiuso in una casa per 15 mesi da solo, praticamente senza niente, venne portato per divertire gli spettatori. Partiamo dall'inizio. La storia inizia nel 1998. All'epoca, un giovane di 23 anni che si chiamava Tomoaki, si chiama ancora, ancora vivo, Tomoaki Hamatsu, aveva come sogno quello di sfondare al cinema o in televisione. Non era stato particolarmente fortunato fino a quel momento, ma proprio nel 1998 era riuscito a partecipare ad un concorso. Un concorso in cui primo premio era proprio un lavoro in televisione. Ora, a Tomoaki non era stato spiegato molto inizialmente e il concorso era ovviamente truccato, perché tra tutti coloro che avevano mandato la propria adesione era stato scelto lui, non per caso, ma perché sembrava perfetto per il gioco che gli autori avevano in mente. Com'era questo gioco? Beh, sulla carta era molto semplice. Avrebbero preso il candidato, Tomoaki, lo avrebbero messo in una casa, che in realtà poi era un monolocale, una grossa stanza, e lo avrebbero lasciato lì, senza niente, se non tutto quello che lui fosse riuscito a vincere. Come vincere, voi direte voi? C'erano delle prove, c'erano degli scontri da fare, un po' come avviene nei reality oggi? No. Gli venivano fornite, infatti, delle riviste, classiche riviste che si trovano in edicola, tanto così ci capiamo, che al loro interno avevano dei concorsi, dei giochi, sia che fossero lotterie, manda questo tagliando e il sorteggiato otterrà qualcosa, sia che fossero dei giochi, completa questo indovinello, manda una barzelletta e verrai ripagato, ci siamo capiti, sono cose che oggi non sono più così tante diffuse, ma che ancora una ventina di anni fa erano invece abbastanza comuni. Bene, e lui avrebbe dovuto partecipare a questi giochi, e ottenere il premio. Ora, sulla carta la cosa era stata venduta a lui come qualcosa di molto semplice, che sarebbe durato qualche settimana, sarebbero ovviamente state fatte delle riprese, ma sarebbero state montate e trasmesse solo dopo la sua uscita, probabilmente avendo lui in studio, in modo da poter capire tutto quello che era successo. In realtà, le cose non andarono così. Dopo che venne fatto entrare all'interno della casa, innanzitutto si rese conto che nella casa non c'era praticamente nulla, perché c'era il riscaldamento, c'era l'elettricità, c'era l'acqua e stop, perché tutto il resto che lui poteva utilizzare erano semplicemente le riviste, ma nulla, nulla più. Appena entrato fu costretto a spogliarsi e se andate a vedere il video di quel primo momento noterete tutto il suo stupore di come non aveste realmente capito quanto estremo fosse l'esperimento. Fu costretto a togliersi tutto, c'è quel momento di stupore, quasi di confusione, quando gli dicono no, tutto, 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 anche le mutande e rimase completamente nudo. Nei giorni successivi si rese conto che quando gli avevano detto che non gli avrebbero fornito nulla, intendevano veramente niente, perché nelle due settimane successive l'unica cosa che poteva mangiare fu l'acqua, fino a quando incredibilmente non riuscì a vincere, grazie ai concorsi, una sacca di riso, solo per rendersi conto in quel momento che non aveva nulla per cucinarla e quindi dovendo prepararsi da solo con altri premi che era riuscito a ottenere, una specie di pentola per poterlo bollire e addirittura, prima di riuscire a costruirla, costretto a mangiare quel riso crudo solo per poter avere un po' di nutrimento. Nelle settimane successive vinse tanti oggetti, la maggior parte dei quali però non gli servivano a niente, una bicicletta, che come potete immaginare in quell'appartamento non poteva girare, una televisione, che però non poteva attaccare perché non aveva l'antenna, piccoli oggetti e si ridusse a mangiare principalmente del cibo per cani, delle scatolette, che erano la cosa più semplice perché una volta arrivate poteva aprirle e mangiare direttamente da lì. Quello che però lui non sapeva è che in realtà gli autori gli avevano mentito anche sotto un altro punto di vista perché in realtà quel reality era già in corso di trasmissione. Ogni settimana le riprese di lui chiuso, nudo nella casa e rimarrà praticamente sempre nudo perché non riuscirà mai a vincere degli vestiti della sua taglia o forse gli autori non glieli faranno mai vincere, questo ovviamente non lo sappiamo, le riprese di lui nudo chiuso all'interno della casa saranno montate in dei video divertenti andatevi a vedere sono pieni di fermo immagini di risate registrate che sembravano trasformare il tutto in un gigantesco spettacolo comico e che venivano trasmessi settimana dopo settimana per la visione degli spettatori giapponesi che sempre più numerosi seguivano quel ragazzo un ragazzo che per tutti intanto era diventato Nasubi che letteralmente vuol dire melanzana per due motivi uno perché la sua faccia allungata con i capelli che crescevano e che lui raccoglieva come poteva in delle specie di capelli di scignone raccolti iniziava a sembrare una melanzana un po' perché gli autori che ovviamente dovevano coprire i genitali e le parti intime lo facevano proprio con una melanzana in tutto per creare ancora più divertimento il tutto in realtà aumentando quello che era la derisione verso un uomo che letteralmente non poteva nulla di quello che si stava trovando a vivere Tomohaki in realtà però un obiettivo ce l'aveva ed era quello ovviamente di uscire dalla casa cosa che gli era stato promesso avrebbe potuto fare se fosse riuscito a raccogliere tramite la vittoria di tutte queste piccole gare sulle riviste almeno un milione di yen una cifra grossomodo pari a 10.000 euro attuali più o meno ci possiamo capire come al cambio di allora non sembrerebbe una cifra enorme però ovviamente da tutti questi concorsi non vinceva mai grosse cifre piccoli oggetti del cibo pentole nulla di più insomma non riusciva a ottenere molto denaro e per riuscire ad arrivare ad un milione di yen gli scivollero 335 giorni quindi quando mancava un mese al completamento del primo anno lui alla fine riuscì a raggiungere la somma che era richiesta pensate che in questo periodo per un anno 11 mesi interi lui disse senza alcun contatto con nessuno non vedeva nessuno non parlava con nessuno ad un certo punto quando vinse un pupazzo iniziò a parlare col pupazzo quasi come fosse cast away tanto per intenderci perché erano giorni mesi settimane che non parlava con nessuno e quel pupazzo diventa addirittura quasi il suo maestro il suo sensei e a lui parlava cercando di tirarsi su e di andare avanti con l'esperimento alla fine però dopo 335 giorni finalmente riuscì a vincere intanto però il programma era diventato famosissimo la gente lo seguiva e gli autori non avevano tutte queste intenzioni di interromperlo anche perché avevano già dovuto spostarlo una volta di sede di casa perché i paparazzi erano riusciti a scoprire dove in effetti fosse nascosto anche perché in Giappone non tutti erano favorevoli a questo programma qualcuno sollevava grossi dubbi su quello che stava avvenendo ad ogni modo dopo questi 335 giorni Atomo Haki venne comunicato che finalmente aveva vinto venne portato fuori dall'alloggio ovviamente sempre vendato e venne portato in Corea del Sud una volta in Corea del Sud gli venne regalato un giorno un giorno di divertimento venne portato in un parco divertimenti qui gli venne permesso di mangiare tutto quello che voleva e immaginatevi che fame che voglia di mangiare qualcosa di particolare che poteva avere dopo un anno gli venne permesso di muoversi tra le varie giostre divertirsi quando poteva ma alla fine alla fine della giornata ancora una volta ben dato venne portato in un nuovo appartamento ve l'ho detto gli autori non volevano far finire quel gioco e così portato nel nuovo appartamento gli venne detto che avrebbe dovuto ricominciare tutto da capo e che questa volta il suo obiettivo sarebbe stato vincere abbastanza denaro per comprarsi un biglietto per tornare in Giappone e a quel punto la sua storia sarebbe finita a questo punto il nostro probabilmente non aveva più nessuna voglia né possibilità di opporsi e dopo essersi spogliato tornò a fare quello che aveva fatto fino a quel momento solo che ormai era diventato troppo bravo vinceva troppo rapidamente denaro e così il biglietto che prima poteva essere un biglietto qualunque divenne un biglietto di prima classe poi un biglietto con maggiorazioni cercando sempre di aumentare la quota necessaria finché finalmente dopo 16 mesi rinchiuso la cifra raggiunta fu quella giusta e finalmente Tomohaki poté tornare in Giappone la cosa più triste a chiudere tutto questo è che quando arrivò in Giappone neanche in questo caso gli venne detto che aveva vinto venne preso portato in un nuovo appartamento e quando lo vide se vi ricordate 16 mesi prima aveva quasi cercato di opporsi al fatto di spogliarsi quando vide ritrovarsi in un nuovo appartamento questa volta senza che nessuno gli dicesse niente si spogliò e tornò nudo ad aspettare di fare quello che aveva fatto fino a quel momento in realtà era l'ultima ennesima terribile burla perché ad un certo punto quell'appartamento si aprì letteralmente le mura crollarono e scoprì di trovarsi al centro di un teatro un teatro con tutte le persone che lo avevano seguito fino a quel momento che lo applaudivano nei mesi successivi Tomohaki non divenne particolarmente famoso la sua notorietà scomparve molto rapidamente anche se continuò a rimanere nel mondo della televisione nel mondo dell'arte rimase famoso principalmente a livello locale quel che è certo è che e questo lo disse anche lui si portò per mesi se non per anni gli effetti di quello che era successo disse che per sei mesi non gli sembrava quasi di soffocare a mettere dei vestiti che ci mise settimane a tornare a parlare con altre persone perché gli sembrava quasi che quelle voci rimbalzassero lui che non era più abituato ad avere nessun contatto e ci vorrà molto perché torni alla sua vita di relazione recentemente e questo è particolare è però tornato agli onori delle cronache in Giappone perché durante il periodo Covid quando ci fu da esattamente come da noi chiedere ai giapponesi di rimanere il più possibile in casa per evitare la diffusione della malattia divenne ovviamente con la sua storia il simbolo di questa campagna e quindi in qualche modo una piccola notorietà Tomohaki cercato informazioni ma non ha mai denunciato gli autori del programma anzi pare che in realtà non li abbia mai neanche attaccati pur riconoscendo che quel programma grossi danni alla sua psiche li abbia fatti è incredibile però pensare che si possa arrivare così tanto all'estremo per un programma ma soprattutto è incredibile pensare questa secondo me è la cosa peggiore che chi quel programma lo guardava invece di pensare a che cosa di terribile stava avvenendo rideva rideva perché le scene sono divertenti vedere un uomo in quelle condizioni è divertente vedere un uomo che per mesi si arrabatta può essere divertente ma è il divertente di vedere una persona che cade e si fa male fa ridere sul momento ma forse posteriore ti fa pensare che non è che sei proprio una così grande bella persona io mi fermo qua voi pensavate che i programmi giapponesi più folli fossero Takeshi's Castle quindi mai dire Banzai e invece c'è di peggio come vedete io mi fermo qua spero di avervi raccontato qualcosa di particolare spero che non ci siano più programmi di questo genere ma temo che andremo sempre peggio quindi ne vedremo di meglio con cosa brindiamo al nostro Tomohaki peraltro io sono stato molto attento a chiamarlo sempre Tomohaki perché trovo fastidiosissimo il fatto che tante volte venga invece nominato con il suo soprannome che anche lì è un soprannome offensivo chiamiamola persona per nome questa è la mia idea potremmo brindare visto che sono giapponesi con del sake sicuramente alla sua salute e perché il resto della sua vita sia migliore di quei 16 mesi alla sua salute e alla vostra grazie a tutti